Bentornati in questo nuovo tutorial. La primavera mi ha un poco ispirato questi colori, avevo indossato questa camisetta e quindi mi sono ispirata a questi colori. Iniziamo con questo ombretto della Sien che è questo rosa quasi metallizzato e poi applico dalla palette Make Up The Light questo viola che si chiama appunto Casa The Light e lo passo nella palpebra mobile con questo pennello a penna. Con quello da sfumatura poi vado a sfumare un poco il tutto e poi con questa matita della Essence con questo verde scuro traccio questa linea di eyeliner nella parte superiore appunto dell'occhio e nella parte inferiore. Applico subito dopo proprio per valorizzare la linea di eyeliner questo pacifico, questo verde sempre preso dalla palette Neve Cosmetics Make Up The Light e vado a valorizzare questo verde per rintensificare. Applico poi successivamente il mio immancabile Cajalla e poi applichiamo il mascara Vamp di Pupa. Applico poi come contorno labbra questa matita di Essence Lip Liner la 05 Soft Berry e poi applico questo della MAC che è lo 09 Lipstick Facciamo un po' di contouring con questo illuminante anche della MAC e aggiungo questo bellissimo blush di cui mi sono innamorata della Debbie che è lo 01 Peach Mi piace davvero tanto perché dà un tocco al viso davvero davvero molto molto particolare senza essere invadente. E questo è tutto per quanto riguarda questo tutorial, è ispirato un po' alla primavera, un po' alla camicetta verde che ho indossato. Io vi mando un grosso bacio e ci rivediamo ai miei prossimi tutorial. Ciao! 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 Ciao!